...di Edison proprio per effettuare l'efficientamento all'interno della villa. 70.000 euro è l'importo, la rotonda ha un diametro identico a quello originario, poco più di 10 metri. 84 sono le colonine che sono state restaurate, alcune ma non riuscite a distinguerne quali sono completamente nuove di pacca perché alcune di quelle antiche sono state utilizzate per riprodurre un calco, proprio per risistemare quelle danneggiate. L'effetto è quello che vedete, soprattutto la pavimentazione completamente rifatta ha riprodotto la stessa pavimentazione in graniglia di cemento con inerti di dimensioni e di cromatura identici a quelle del colonnato dell'ingresso della villa e questo è un motivo di pregio oltre che di qualità del lavoro che è stato effettuato. Sindaca, quale funzione immagina adesso per la rotonda? Una funzione sociale, ludica, un luogo dove star bene con se stessi e con gli altri. Ricordiamo quante generazioni hanno giocato attorno a questa rotonda, al centro proprio del più importante parco da uno della città. Io stessa da piccola mi divertivo abbastanza a salire e scendere quelle scale, a fare anche dei giochi così spontanei di comunità. Ed era un luogo che aggregava adulti e piccini perché eravamo sotto la supervisione attentissima dei genitori. Quindi io credo che lì si possa ricreare una nuova forma di aggregazione che da anni era venuta meno, per atti di vandalismo, per perdita di attrattività del bene, per depauperamento proprio strutturale. E quindi questo è un simbolo che viene restituito e noi lo facciamo con estremo piacere. Ecco, proprio per la sicurezza si può immaginare qualcosa in più? Una guardiania? Sulla sicurezza noi stiamo lavorando tantissimo in città perché come tutti ben sapete stiamo puntando ad un ripristino di funzionalità e a un potenziamento del sistema di videosorveglianza che è la sicurezza diretta, quella che permette di catturare delle immagini e di utilizzarle tramite le forze dell'ordine per assicurare la giustizia coloro i quali dovessero commettere dei reati. Ma accanto a questa sicurezza c'è anche la sicurezza percepita. C'è quella che i cittadini avvertono quando si muovono in uno spazio pubblico che non è buio. È l'efficientamento energetico che stiamo facendo, anche con un'azione di pressing, di fiato sul collo, nei confronti dell'appaltatore novennale che abbiamo con il Global dell'Illuminazione, puntando ad una maggiore quantità della luce, oltre che a una migliore qualità della luce, va proprio nel solco di assicurare una maggior percezione di sicurezza negli spazi pubblici cittadini e tra questi la Villa Comunale, sicuramente uno dei più frequentati.